Conferenza stampa stamani presso la Diade Agrigento effettuato dal dirigente della sezione operativa dottor Roberto Cilona per un'analisi sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nella relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, periodo che va dal gennaio al giugno 2017, una visione più consolidata dei fatti criminali mafiosi effettuata nel nostro territorio agrigentino e di una crisi della governance che è Cosa Nostra strattaversando. Oggi la differenza tra Sida e mafia si è notevolmente assottigliata e nella riorganizzazione sono ormai diventate un tutt'uno. Le attività vengono distinte tra quelle svolte da Cosa Nostra nel territorio provinciale, attività più classiche e quella della mafia in città in cerca di nuove forme più lucrose. L'analisi perte anche sul fatto che la mafia tolle l'attività fatta da elementi stranieri, in particolare quelle relative alla prostituzione, ai furti nelle case e ricettazione. Sottolinea, attresì, gli accordi che vengono intrapresi anche con la mafia calabrese. La Cosa Nostra è una realtà, è una comunità criminale che ha le sue capacità operative, le sue necessità di sopravvivenza e che pertanto deve dotarsi di un'adeguata capacità economica. Quindi è perfettamente orientata verso la percezione di business sia criminali che mercati non criminali ma comunque da aggredire e da raggiungere acquisendo posizioni monopolistiche. Vive un momento non tanto di crisi quanto di evoluzione, evoluzione in base a quelle che sono le criticità che da mandamento a mandamento si possano determinare. Criticità che nella grande maggioranza dei casi riguardano una governance e quindi una capacità di leadership adeguata da parte dei capi. Il tema delle istruzioni è non solo, perché si comprende agevolmente come la comunità criminale necessita di una comunità civile, come un parassita necessita del suo ospite dal quale trarre benefici. In questi casi quindi il crimine organizzato, la comunità criminale si serve del povero cittadino, a volte ignaro, ignaro nel sapere una verità ormai ovvia che il consumo di droga è uno degli elementi principali su cui si basano le principali entrate di Cosa Nostra. C'è una differenza tra la mafia del centro e la mafia in periferia. Lei ha posto un dato su questa analisi. Dov'è la differenza sostanziale? La differenza riguarda essenzialmente le criticità che stanno vivendo. La mafia di periferia o di entroterra è una mafia in realtà legata molto più alla tradizione rispetto a quella del centro città, volendo fare una suddivisione di questo tipo. Le criticità sono differenti perché l'entroterra vive delle problematiche che riguardano la sopravvivenza economica della comunità con scarse capacità affaristiche. Di contro invece ha una forte capacità di leadership che invece il centro subisce. C'è una tolleranza, diceva lei, anche verso soggetti criminali esteri, stranieri, rumeni, che vengono in un senso tollerati, la loro attività viene tollerata da Cosa Nostra. Lo straniero molto spesso può in essere determinate attività criminali che non rappresentano il business tradizionale da parte di Cosa Nostra e quindi attività quali, ad esempio, lo sfruttamento della prostituzione non sono sicuramente di interesse da parte di Cosa Nostra e quindi vengono, possiamo utilizzare il termine, tollerate.